Lo dico al pubblico, voi musicisti lo fate, siete tattici, non lo dite ma lo sapete già Certo Ascoltiamoci quest'altro pezzo Soprattutto Alessandro che si chiama Cinzio per tutti noi, lui è tatticissimo Volevo dirla questa cosa in diretta Va bene, allora riabbassiamo la base, riabbassiamo il LoSure E ci ascoltiamo un altro pezzo del nostro trio, Live in the Studio Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima